Ciao a tutti ragazzi, qui è BlueLight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo video di Clash of Clans Allora ragazzi siamo qui in questo nuovo video, finalmente tornati qui Siamo nel nostro villaggio, nella nostra sala del costruttore e cose simili Allora ho fatto tante modifiche dall'ultima volta Infatti come vedete abbiamo la sala del costruttore al 4 Alcune cose ancora da modificare Tipo, devo ancora mettere questa Che però metteremo adesso, dato che ho i big money Schiaffamola qua, va Giusto per il momento C'è un sacco di soldi, proprio un sacco E quindi adesso che abbiamo pure quella Perché era l'unica cosa che mi mancava La mettiamo qui all'interno del nostro villaggio E ce la prendiamo a posto Dobbiamo fare ancora i nostri tre attacchi Quindi li faremo tutti i belli spediti oratore dell'orologio Però prima, però prima Andiamo un attimo nell'altro villaggio Andiamo nel villaggio principale Dove qua stiamo andando avanti molto piano Stiamo continuando a fare le mura Ha fatto anche la regina a livello 23 Tra poco posso portare qualcos'altro di livello 24 Adesso devo decidere se il re barbaro è la regina Ma soprattutto Non siete nel clan di Blue Light Non siete entrati nel clan di Blue Io mi soffeso E mi soffeso Aspetto Tutti Tutti li voglio Tutti li vogliono giocare a Clash of Clash Qua devono entrare Ah Avete capito Dovete entrare tutti qua Non so cosa Sto mischiando dialetti così a caso Allora Dato che c'è ancora l'evento Del mastino Del mastino Bocciatore Mongolfiere Andiamo a fare qualche attacco con le nostre Mongolfiere È bello lui Fresco Guarda il nero che c'è qua C'è scritto Blue Light Su sto nero Mamma mia regà Questo è freschissimo Madonna 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 Questo è mio Questo è mio Questo gli devo rubare tutto Tutto gli devo rubare Allora facciamo così Facciamo così Facciamo così Facciamo così E poi qua Facciamo un attimo così Allora vediamo un po' Dove sta l'altra roba Allora Mettiamo queste Perché Allora di là c'è il drago Quindi facciamo così E questi due eroi Devono stare qua Perché devono fare Delle robe Cioè devono fare dei danni Principalmente Mannaggia Il drago in difesa C'ha questo Bastardo Vabbè Il nero gliel'abbiamo preso tutto Oh il re Lo stava a perdere Porca miseria Stava a perdere E Ok Ok Abbiamo fatto Un sacco di danni Abbiamo preso Un po' di roba Ancora non tutta Praticamente C'è Questo Deposito E questo altro deposito Il drago ancora in vita Vediamo se gli schierri Ce la fanno No Non ce l'hanno fatta Allora Qua siamo Quasi morti Con la regina Niente Vediamo un po' Se riusciamo a fare Questo 100 Dobbiamo uccidere Il drago E il gigante Vediamo un po' Targhetta il drago No Targhetta il municipio Ce l'ha fatta Ha targhettato Perfetto È 100 Forse no Però È quasi Quasi 100 L'importante è che abbiamo preso Tutte le risorse Regà Questo era pieno come nuovo C'è Ti è Mancano solo 48.000 Di oro Ma che ci frega A noi C'è Abbiamo fatto l'attacco Della life Proprio Sto giocando a clash Guarda quanto rubo Guarda quante risorse Prendo Prendo tutto Non lascio niente No No Basta Niente È uscito Il 100 100 100 100 100 Yeah Yeah A posto Tu matcha forti Regà Ti è 400 2000 di oro 400 2000 di elisir 2755 di nero E più il bonus Ciao zì Grazie per questo Attacco Ti è Ti è Mamma mia I soldi che abbiamo fatto Con questo attacco Ragazzi Beh Che dire Io gli attacchi Nell'altro villaggio Li ho fatti tutti In realtà Però Si è rotta la registrazione Questa cosa è fantastica Perché ho fatto tutte Due stelle Tutte due stelle Però ho fatto tipo 8 attacchi E ne ho vinti 3 Su 8 Cioè tutte e due stelle Ho vinto 3 attacchi Cioè Stato a capire Vabbè Comunque ragazzi Come vedete Ho fatto un po' di oro Poi qua ho messo il drago Qui abbiamo La Le bombe Contraere Che avete visto E Adesso Noi con questi soldi Ci possiamo anche fare La sala del costruttore Però Ci abbiamo Il costruttore Che c'ha ancora Da lavorare Poi c'è L'altro da modificare Quindi per il momento Aspetto Poi qui ho fatto Anche un altro attacco Però Come potete vedere È finito Con un 48% Bruttissimo Io ho attaccato Io ho attaccato uno A caso Perché mi ero stancato Di trovare gente E quindi Per il momento Ci teniamo Quell'attacco bello Quell'attacco bello Quello bellissimo Quello bellissimo Quindi ragazzi Allora Mi mancano 23 mura 23 mura E poi E poi Non mi mancano Solo quelle Perché Dobbiamo fare Anche i cannoni Dobbiamo fare Guardate che belli Ci mettono 3 o 4 giorni Per farsi E la cosa bella È che ti rubano Il costruttore Dall'altro villaggio Quindi se tu Fai il cannone qua Il costruttore Di là Non fa niente Perché non lo puoi utilizzare No good Come cosa No good Però Però Vedremo Vedremo cosa fare Intanto ci prendiamo Tutte ste gemme Ti è Gemme Questo Gemme Niente Vabbè Mi sono riempito Comunque di gemme Quindi ragazzi Vi aspetto tutti Nel clan di blu Qui su Crash of Clans Vedremo in futuro Di fare guerre O cose simili Quindi Vi ringrazio Per aver visto il video Lasciate like Commentate Condividete questo video Iscrivetevi Se non lo avete ancora fatto Passate in tutti i social In descrizione E quindi Ciao a tutti da Bluelight Ciao